Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Qualcuno di voi mi ha chiesto in più commenti di esaminare il caso di Lisa Montgomery e di portarlo sul canale. Le richieste non sono affatto casuali, infatti Lisa è la quarta donna condannata alla pena capitale nella storia del governo federale degli Stati Uniti. L'ultima donna messa a morte dal governo federale degli Stati Uniti è stata una donna di nome Bonnie Hedy nel 1953. Lisa è stata condannata per un reato davvero atroce e in effetti ve ne ho parlato recentemente nel video dal titolo Voleva solo un bambino, il punto è che la protagonista di quel caso non è Lisa Montgomery, ma di base il reato nudo e crudo di Lisa è stato quello. Ma prima di parlare in modo un po' più approfondito del terribile atto di Lisa, andiamo a delineare la sua storia, cerchiamo di capire chi sia questa donna e se vi è un motivo per cui ha commesso un atto così atroce. Sapete benissimo che ai miei occhi tantissimi serial appaiono sia come carnefici che come vittime. E questo, ve lo premetto per quanto mi riguarda, è uno di quei casi. Aggiungo un disclaimer che penso sia utile. No, avere un'infanzia difficile, anche costellata da molestie, non porta per forza un soggetto ad essere un depravato nella vita. Non è così, altrimenti a mio parere saremo tutti un po' serial. Inoltre c'è da dire, da sottolineare, che non tutti i serial hanno vissuto infanze pessime. Ci sono delle eccezioni, ma in questo caso c'è un fatto. Purtroppo Lisa ha vissuto una delle infanzie più tristi e terribili che abbia mai letto. Io ve lo giuro, la storia di Lisa spezza il cuore a metà, o almeno a me l'ha spezzato. Vi avviso, questo video parlerà di temi pesanti, quindi ve lo dico già. Se siete dei curiosoni e lo volete guardare, per carità fatelo, ma non sforzatemi mai. Quando sentite che troppo bloccate il video fate altro, io non mi offendo di certo. Tranquilli. Questo, ahimè, è uno dei casi più tristi che abbia mai letto, quindi fate voi, insomma. Cercate di capire se riuscite a reggere la visione di questo video oppure no. Lisa Montgomery nasce il 27 febbraio del 1968 a Melbourne, una piccolissima cittadina, nella contia di Osage, in Kansas. Melbourne ha una popolazione di circa 349 abitanti, quindi è davvero davvero piccola. Lisa viene al mondo dall'unione tra Judy Sognissi e John Patterson, i quali si sposano nel 1967 a Miami. Ma non la Miami che sta in Florida, ora io non so se si pronuncia così, ma questo è un comune degli Stati Uniti situato in Oklahoma, nella contia di Ottawa. Al momento della nascita di Lisa, Judy ha 20 anni e ha dei seri problemi con l'alcol, mentre John Patterson è un militare 25enne, anche egli alcolizzato, e con una figlia piccola, nata da una precedente relazione, Diane. Tra Diane e Lisa ci sono 4 anni di differenza. Dovete sapere che Judy inizia a fare del male a Lisa ancora prima che sia nata e voi vi starete chiedendo, come? Come vi ho già detto poc'anzi, Judy ha dei forti problemi di alcol, è proprio un alcolista, ha proprio un problema, è una dipendenza. E bere in gravidanza fa malissimo, specialmente per una persona con questo tipo di dipendenza, che può arrivare davvero a consumare una quantità immonda di alcol. Lisa quindi nasce con la sindrome alcolica fetale. Le caratteristiche di questa sindrome comprendono principalmente alterazioni della forma del volto, come ad esempio fessure palpebrali strette, naso molto corto e piatto, scarso sviluppo della mascella e della mandibola, ma non è finita qui purtroppo. In quanto possono verificarsi anche anomalie del sistema nervoso centrale e ritardo della crescita. Judy fa del male a Diane e a Lisa fin da quando sono piccoline. Le punisce picchiandole con qualsiasi cosa abbia sotto mano, che sia una scopa, una corda o ancora una cintura. Le prime parole che impara a dire Lisa sono Non scolacciarmi. Ecco perché Diane e Lisa diventano immediatamente molto unite, dormono in letti separati, però sono vicini. Quindi le due ogni notte si addormentano tenendosi per mano. Crescendo Diane si rende conto che Judy riesce a far leva su ciò che in passato l'ha ferita, proprio per usarlo contro di lei. Diane è molto sensibile all'abbandono, in quanto sua madre l'ha mollata con suo padre al posto di prendersi cura di lei. E quindi Judy puntualmente usa questo trauma contro Diane. Quando la fa arrabbiare per qualsiasi motivo, finge di buttarla fuori di casa. La sbatte fuori dalla porta e le ripete che deve andarsene, ma non è necessario che prenda nulla, visto che tutto ciò che ha gliel'ha comprato lei. Il padre di Diane è spesso lontano da casa e quindi Judy accoglie in casa sua degli altri uomini, che spesso sono violenti con Judy. Quindi Diane e Lisa assistono a liti furibonde e hanno una paura tremenda che Judy possa prendersela anche con loro. Ma non è finita qua, perché se il marito è lontano da casa, in generale Judy può essere con Diane e Lisa ancora più crudele del solito. Alcune notti Judy esce e lascia le bambine a casa con un uomo più uomini. Diane sostiene che quelli siano stati dei babysitter. Peccato che in realtà non sia proprio così. Judy esce per locali e lascia le figlie alle cure di uomini poco rispettabili, che provano ad allungare le mani su di loro. A volte Diane riesce a proteggere la sua sorellina mettendosi in mezzo, ma alla fine ecco che arriva un babysitter fisso per le due bambine. Lisa ha solo tre anni e questo uomo fa violenza su Diane nella loro camera da letto, nello stesso letto, insieme a Lisa che deve stare lì e assistere senza proferire parola. Quella è la punizione che deve subire Diane in quanto non permette al babysitter, al tizio, di toccare Lisa. Se Lisa parla troppo, Judy le tappa la buca con del nastro adesivo e la bambina non può assolutamente dire nulla per ore ed ore. Rimane lì a piangere disperata per paura di soffocare. Se Lisa non finisce ciò che sua madre le mette nel piatto, sa che rimarrà legata a quella sedia per ore intere. Per punire le due bambine Judy fa fare ad entrambe docce o bagni gelati. Il punto è che spesso non si accontenta solo di infliggere alle due bambine docce o bagni gelati. Le butta anche totalmente nude in mezzo alla neve. O ancora le lascia senza vestiti fuori al freddo per ore e ore. Proprio in questo periodo Judy e John Patterson divorziano. Siamo nel 1971 ed è proprio per questo che Judy perde la custodia di Diane. Quindi Diane all'età di 8 anni viene fortunatamente data in adozione. È una mattina più avviginosa e in quel periodo Diane e Lisa, che ha 4 anni, vivono con Judy in un parcheggio per roulotte a Ogden. Una comunità nella contea di Riley, nel Kansas. Judy quella mattina sta urlando al telefono con qualcuno. Poi riattacca il telefono, guarda Diane e le dice sibilando. Bene, ora vengono a portarti via. Spero che tu sia felice. Diane non sa esattamente cosa voglia dire essere felice. Ma quando viene adottata fortunatamente si salva. È il 1972. Il problema è che Lisa no, non si salva. Lisa rimane con Judy. Ecco perché quando Diane viene data in adozione, Lisa perde totalmente la spala su cui si appoggiava tutti i santi giorni. Lisa nel frattempo frequenta l'asilo e sua madre Judy si risposa con Jack Clayner nel 1974. Jack è un padre divorziato e ha già 5 figli. La coppia ben presto mette al mondo 3 figli in rapida successione. Il punto è che Jack è un uomo abusante, violento. Mette le mani addosso regolarmente sia a sua moglie che a Lisa. Mentre Lisa è in preadolescenza, Jack, Judy e i figli si trasferiscono con la loro roulotte in una zona totalmente isolata dell'Oklahoma. Teresa questa situazione normale, pensate che fino a quel momento si è già trasferita 16 volte. Il problema è che Jack non ha imposto questo trasferimento per motivi validi. Magari ha trovato un lavoro in quella zona. No, nulla di tutto ciò. Jack sceglie di trasferirsi in un posto isolato. Perché quando Lisa ha 11 anni, l'uomo inizia a fare violenza su di lei regolarmente. Arriva a farlo talmente spesso da costruire un capanno improvvisato sul lato della roulotte solo e soltanto per fare violenza su Lisa. In questo modo, in quel capanno, Jack può fare a Lisa quello che gli pare in qualsiasi momento del giorno o della notte. La madre di Lisa, Judy, viene a sapere di questa situazione quando Lisa ha 14 anni. E io qui mi sono domandata, ma santo cielo, in tre anni questa crista non ha mai neanche provato ad entrare per sbaglio in questo capanno di Jack? Neanche per sbaglio? Judy non è molto sveglia perché inizia a porsi delle domande sul perché Jack debba per forza portarsi sempre Lisa in questo capanno. Quindi Judy, dopo anni che quel capanno è stato costruito, decide di entrare per dare un'occhiatina. Voglio credere una cosa, probabilmente Judy non l'ha mai fatto prima perché Jack l'ha minacciata. Spero ovviamente che sia questo il motivo per cui non è mai entrata in quel capanno per tre anni. Quando Judy quindi va a vedere perché Jack si porta via Lisa da anni, scopre, vede con i suoi occhi l'uomo che sta facendo violenza su sua figlia. E la reazione di Judy è assurda, è totalmente assurda. Perché la donna afferra una pistola, la punta contro Lisa e se la prende con lei chiedendole come abbia potuto farle questo. Lo dice a sua figlia di 14 anni eh, non a suo marito. Qui purtroppo le cose per Lisa peggiorano ancora di più. Infatti non solo Jack la offre a dei suoi amici e con questo intendo che vengono organizzate serate in cui Jack e i suoi amici fanno a turno. Questa già così è una situazione davvero orribile, ma il punto è che la situazione è ancora più raccapricciante di così. Perché Judy da quando scopre di sua figlia e suo marito inizia ad usarla anche per pagare l'idraulico, l'elettricista. Perché non hanno soldi. In adolescenza Lisa è stremata, non ce la fa più e quindi va da suo cugino. Anche perché è terrorizzata dal fatto che Jack possa ucciderla. Ma suo cugino, David Kydwell, pensa che la ragazza non stia dicendo la verità e quindi semplicemente la raccompagna a casa. A questo punto Lisa confida tutto a uno dei suoi fratellastri. Racconta tutto e poi dice che forse ha trovato il modo per sfuggire in quei momenti, almeno nella sua testa. Perché mentre quegli esseri le fanno del male, Lisa ha intenzione di cercare un modo per non essere presente con la testa. È da questo momento che Lisa prova a dissociarsi e in effetti col tempo ci riesce anche. A questo punto Lisa inizia seriamente ad avere uno scarsissimo rendimento a scuola e i suoi voti sono bassissimi. Sono peggiorati ancora di più rispetto agli anni precedenti. Spesso Lisa va a scuola con abiti rovinati, strappati, rotti, sporchi. Anche perché in quel periodo la famiglia è così tanto povera da vivere in roulotte, in una zona isolata senza neanche l'acqua corrente. Si dice che gli amministratori scolastici sospettassero qualcosa. Buongiornino vorrei dire a questi amministratori scolastici, buongiornino. Ma comunque non sono riusciti a prendere provvedimenti per indagare oltre o per denunciare la situazione alla polizia. Nel 1985 Judy e Jack divorziano. E durante il procedimento di divorzio Judy ammette in tribunale davanti a tutti di aver scoperto suo marito fare violenza su sua figlia. Che cosa fa il tribunale? La munisce per non aver segnalato questa situazione alle autorità, ma neanche la denunciano. E per di più Jack non viene neanche mai accusato. Nello stesso anno Judy sposa Richard Bowman, mentre Lisa sposa uno dei figli di Richard, ossia il suo fratellastro, nel 1986. Con questo nuovo inizio Lisa crede davvero di poter migliorare la sua vita, scappando da quella casa che per lei oramai è diventata impossibile da gestire. Non ce la fa più, è arrivata allo sfinimento ed è disposta a tutto pur di andarsene. Il problema è che, sebbene si allontani da casa, i maltrattamenti e le violenze continuano ad essere all'ordine del giorno. La coppia mette al mondo tre figlie ed un figlio dal 1987 al 1990. Purtroppo un giorno uno dei fratelli del marito di Lisa, ovvero uno dei fratellastri di Lisa, trova un filmato casalingo su una videocassetta in cui si vede chiaramente che il marito di Lisa la picchia violentemente e poi fa violenza intima su di lei. L'uomo descrive la scena in una dichiarazione con queste parole. Era violento come le scene di un film horror. Mi sono sentito male guardando il video e non sapevo cosa fare o come parlarne con la mia sorellastra Lisa. È proprio in questo momento che gli amici e i parenti di Lisa iniziano a notare la sua tendenza a scivolare in un mondo tutto suo. Lisa quindi inizia ad entrare in degli stati di semi-incoscienza, in cui per l'appunto sembra cosciente perché ha gli occhi aperti, ma non risponde a nessun stimolo esterno. Ovviamente questa cosa col tempo inizia a spaventare i suoi figli. Questo è chiaramente un segno precoce di tutte le malattie mentali che affliggeranno Lisa, partendo dal disturbo da stress post-traumatico, seguito dal disturbo dissociativo e lesione cerebrale traumatica. Nel 1990 Carl Bowman e sua madre Judy la obbligano a sottoporsi ad una sterilizzazione contro la sua volontà. Infatti dopo aver subito ciò Lisa inizia a dire a tutti in modo ossessivo di essere incinta. Passa il tempo e Lisa ha episodi sempre più dissociativi e preoccupanti, come in uno schema che Lisa si è stampata in testa, esattamente come accadeva da bambina anche in età adulta. È solito trasferirsi spesso, pensate che ha vissuto a 61 indirizzi diversi. A questo punto Carl Bowman capisce che in Lisa ci sono dei problemini e quindi inizia a minacciarla, dicendole che l'avrebbe portata in tribunale per toglierle la custodia dei figli. E in effetti poco prima c'è stata una visita sorpresa degli assistenti sociali, che non è andata troppo bene. Infatti i professionisti sostengono che Lisa non sia un genitore funzionale, in quanto a seguito di un'ispezione la sua casa risulta davvero tanto sporca e in disordine. I suoi figli sono stati visti correre senza vestite in cortile e sua figlia di due anni e mezzo ha ingerito una bottiglia di Tylenol, che a quanto capito è l'equivalente del paracetamolo nel 1993. Quindi Carl minaccia Lisa dicendole che le avrebbe portato via i figli dimostrando la sua follia in tribunale. Infatti Lisa si inventa perennemente gravidanze e peraltro sembra anche presenti alcuni sintomi. Pare che la sua salute mentale precaria, unita alla sterilizzazione contro la sua volontà, abbiano portato la donna a convincersi di essere incinta e per lei è davvero così. Lisa è davvero convinta di essere incinta. Lisa non mente, il problema è che non vede la realtà per ciò che è, non sa proprio riconoscerla. A questo punto Lisa è in balia degli eventi, ha paura di perdere i suoi figli e di fatto non può più averne altri nonostante dica a tutti di essere incinta, che poi a dirla tutta con i suoi problemi mentali. Ora, io non sono un'esperta, quindi in caso correggetemi, ma una persona come Lisa con una mente totalmente corrotta, distrutta, probabilmente non avrebbe neanche dovuto mettere al mondo altri figli. Ma questa cosa è profondamente diversa da non avrebbe più potuto mettere al mondo figli, perché in questo caso Lisa non può davvero più avere dei bambini e questo per lei ha generato un ennesimo trauma. Arriva un giorno, un giorno in cui Lisa si iscrive ad una chat di appassionati di cani, nello specifico per persone che vogliono acquistare un rat terrier. A questo punto entra nella storia la vittima di questa tragica vicenda, ossia Bobby Joe Stinnett. Nasce il 4 dicembre del 1981 a Skidmore e anche Skidmore è una comunità davvero davvero piccola, ha circa 300 abitanti. Quindi tutti quanti conoscono Bobby Joe. Lei è una studentessa brillante, sempre andata molto molto bene a scuola e ama particolarmente giocare con i videogiochi. Bobby Joe a tratti è timida, introversa, certo, però è davvero gentilissima con tutti. È sposata con Zeb Stinnett e lavorano insieme. Gestiscono un vero e proprio allevamento di cani di razza accanto a casa loro. Nel 2004, quando accade la tragedia, Bobby Joe ha 23 anni ed è incinta di 8 mesi. Quindi, che succede? Come vanno i fatti? Lisa contatta sotto un nome falso, ossia Darlene Fisher, Bobby Joe dicendole di essere interessata ai suoi cani. In un secondo momento le due si incontrano ad una mostra canina, nel 2004 ad Abilene. E infine Lisa dice a Bobby Joe di essere in dolce attesa. Quindi le due donne iniziano a parlare tantissimo tramite mail della loro gravidanza, di come si sentono, di quanto sia stancante ma incredibile diventare mamme. E questo scambio, seppur virtuale, le lega parecchio. Passa poco tempo. Ed ecco che Lisa dice a Bobby Joe che vorrebbe acquistare un cane di un tipo di razza che quest'ultima leva. Di conseguenza, Bobby Joe la invita ad andare da lei. Quella sarebbe stata proprio un'ottima occasione per rivedersi. Ed quindi si dà un appuntamento. Il 6 dicembre del 2004, Lisa guida fino a Skidmore, nel Missouri, per andare da Bobby Joe. In quel momento il marito di Bobby Joe non è in casa. Di conseguenza, noi non possiamo sapere esattamente cosa sia successo. Di sicuro c'è che Lisa ha bussato alla porta. È entrata in casa di Bobby Joe e ha finto seriamente di essere interessata ai cani che quest'ultima leva. Lisa quindi si avvicina a Bobby Joe, le due chiacchierano un po'. Bobby Joe ad un certo punto, molto probabilmente, si gira e dà le spalle a Lisa. Ed è in quel momento che Lisa agisce. Prende una corda e la strangola alle spalle. Poi le pratica un cesareo. Ruba il bambino che porta in grimo Bobby Joe e se ne va. Un'ora dopo Bobby Joe viene ritrovata da sua madre, Becky Harper. La donna rimane totalmente scioccata. Chiama l'ambulanza dicendo che sembra che lo stomaco di sua figlia sia scoppiato. L'ambulanza arriva in pochissimo tempo. Ma Bobby Joe purtroppo non c'è più. A questo punto partono le indagini, ma non è che queste indagini durino poi così tanto. Le autorità insomma beccano Lisa abbastanza in fretta. Come? Beh, la prima cosa che la polizia fa è guardare i social della vittima. La sua cronologia online, cosa che ormai può essere considerata una prassi. Bobby Joe faceva parte di qualche forum, scriveva in qualche chat. In men che non si dica, le autorità trovano le mail che Lisa e Bobby Joe si sono scambiate per settimane e settimane. leggono che le due si sono date appuntamento proprio nel giorno in cui è avvenuto l'omicidio. I detective quindi tracciano la posizione da cui sono state mandate quelle mail e in men che non si dica arrivano a Lisa. Lisa che nel frattempo già finge di essere incinta con le persone che gli stanno attorno, con i suoi parenti, con i suoi cari, con i suoi amici. Quindi, con molta semplicità, torna a casa dicendo a tutti di aver partorito. Le forze dell'ordine localizzano Lisa e il giorno seguente si presentano a Melbourne, a casa sua. Chiaramente per gli inquirenti la più grande domanda è cosa ne è stato del bambino. Quindi le forze dell'ordine si dirigono verso casa di Lisa, bussano alla porta e ad aprire loro è proprio Lisa con in braccio una bambina. Gli investigatori immediatamente mettono alle strette Lisa, le chiedono di chi sia quella bambina ma la donna inizialmente cerca di farla passare per sua. Lisa dice che la bambina è sua e di questa Bobby Joe non ne sa assolutamente niente. Il punto è che la polizia è ben consapevole che Lisa stia mentendo. Quindi prendono la bambina, la esaminano, si accertano che sia in buona salute e poi la riportano al padre. Infine ovviamente arrestano Lisa. Lisa viene accusata del reato federale di sequestro di persona con conseguente morte in crimine per cui se viene condannata rischia l'ergastolo o la pena di morte. In un'udienza preliminare un neuropsichiatra ha testimoniato dicendo che Lisa presenta delle lesioni alla testa a causa dei maltrattamenti subiti negli anni che avrebbero potuto danneggiare la parte del cervello che controlla l'aggressività. E trovo che questo punto sia davvero molto molto interessante. Inoltre durante il processo alla corte federale gli avvocati difensori di Lisa guidati da Frederick Dunchard affermano che Lisa soffra di gravidanza isterica. Questa è una vera e propria condizione mentale che induce la donna a credere di essere incinta mostrando anche i segni della gravidanza. E in effetti anche suo marito Kevin Montgomery ad un certo punto nonostante sia consapevole che Lisa abbia subito una sterilizzazione inizia a credere che la donna possa essere incinta perché sembrava incinta. Il dottor Ram Chandran e perdonatemi lui è un neuroscienziato indiano quindi probabilmente gli ho storpiato il cognome. Comunque questo neuroscienziato indiano e il dottor William Logan hanno testimoniato fornendo anche ulteriori testimonianze di ulteriori esperti che descrivono Lisa non solo affetta da gravidanza isterica ma anche di depressione disturbo borderline della personalità epilessia del lobo temporale e come già detto disturbo da stress post-traumatico. Il dottore testimonia dicendo che le storie che racconta Lisa non hanno alcuna valenza non hanno proprio ormai senso perché la donna vive in uno stato delirante psicotico. L'accuso ovviamente sostiene esattamente il contrario dipinge Lisa come una donna spietata che ha agito a sangue freddo senza avere alcun tipo di rimorso in quanto Lisa ha organizzato l'incontro che poi è avvenuto con Bobby Joe in pratica ha organizzato un vero e proprio piano per andare da lei ucciderla e appropriarsi di suo figlio. Lisa ha creato un profilo falso appositamente per accedere alla chat in cui è presente Bobby Joe l'ha contattata per email e infine ha preso la macchina per guidare circa due ore e quaranta e arrivare a casa di Bobby Joe. Inoltre a quanto ho capito ma non ne sono sicura di questo eh alcune fonti dicono che è così altre non menzionano questa cosa però ho letto in più articoli che Lisa quel giorno si fosse portata dietro proprio una specie di kit per fare un cesareo. L'accusa sostiene che Lisa fosse pienamente cosciente di quello che stesse facendo. I suoi disturbi mentali certo possono averle reso la vita difficilissima possono averle creato e crearle tuttora tantissimi problemi ma non c'entrano nulla con questo caso specifico. Purtroppo qua entra in gioco l'incapacità della difesa perché questa per quanto mi riguarda si chiama incapacità. La difesa non è minimamente riuscita a presentare nuove prove riguardo lo sfruttamento che Lisa ha subito per un'infinità di anni per non parlare delle violenze che ha subito. La difesa non è riuscita a spiegare alla giuria perché questo tratto di vita di Lisa sia importante non è riuscita a far capire quanto siano importanti i maltrattamenti che ha subito questa donna per tutta la sua vita. Posso dirvi che al posto di presentare la testimonianza di un esperto sul disturbo da trauma causato dalle ripetute violenze uno dei difensori di Lisa ha letto una poesia sulla violenza durante la sua ringa finale una poesia in tal modo i pubblici ministeri hanno potuto tranquillamente ridicolizzare le prove delle violenze subite da Lisa riferendosi ad essa in modo sprezzante come la scusa della violenza o dell'abuso arriva il 22 ottobre del 2007 e i giurati dichiarano colpevole Lisa Montgomery il 26 ottobre la giuria raccomanda la condanna a morte Lisa quindi viene formalmente condannata a morte e la sua condanna viene confermata il 4 aprile del 2008 Lisa viene incarcerata al Federal Medical Center Carswell a Fort Worth in Texas quella è una prigione federale per detenute con tutti i livelli di sicurezza con speciali esigenze mediche o di salute mentale Lisa in prigione continua ovviamente a mostrare segni di squilibri mentali quindi gli psichiatri della prigione provano a controllare i sintomi peggiori di Lisa e della sua malattia mentale con un'ampia varietà di farmaci psicotropi la donna in effetti finalmente riceve una cura per le sue malattie e prima del suo arresto Lisa queste cure purtroppo non le aveva mai ricevute nonostante le medicine Lisa continua ad andare nel panico se si trova in una stanza da sola con un uomo dalla sua condanna nel 2007 Lisa ha mantenuto anche un buon rapporto con i suoi figli è diventata nonna e ha accettato la responsabilità del suo crimine esprimendo un profondo rimorso la data dell'esecuzione viene programmata all'8 dicembre del 2020 tramite iniezione letale presso il penitenziano degli Stati Uniti a Terhut nell'Indiana ma ciò è stato ritardato quando il suo avvocato ha contratto il covid arriviamo quindi al 23 dicembre del 2020 quando a Lisa viene assegnata una nuova data di esecuzione il 12 gennaio del 2021 l'11 gennaio del 2021 il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell'Indiana ha concesso una sospensione dell'esecuzione di Lisa al fine di condurre un'udienza probatoria per determinare se è attualmente competente per essere giustiziata ai sensi dell'ottavo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti esperti in neuropsichiatria hanno presentato dichiarazioni giurate alla Corte affermando che Lisa non riesce a comprendere e non può comprendere le basi della sua esecuzione insomma Lisa mostra con grande forza la sua incompetenza ad essere giustiziata in quanto a un danno permanente cerebrale e grave malattie mentali che sono state esacerbate dalle violenze subite per tutta la vita per mano di chi invece doveva proteggerla l'ottavo emendamento in effetti proibisce l'esecuzione di persone come Lisa che a causa del loro stato mentale non capiscono i veri motivi delle loro esecuzioni hanno quindi provato a bloccare l'esecuzione chiedendo una nuova perizia psichiatrica su una persona che chiaramente è mentalmente instabile da anni santo cielo ma poco importa viene dato l'ok quindi Lisa viene effettivamente giustiziata il 12 gennaio arriviamo alla domanda delle domande credo sia giusto che Lisa sia stata giustiziata no ho letto di tante storie di tante infanze diverse ugualmente terribili seppur in modo diverso perché ovviamente ogni contesto è a sé ma la storia di Lisa obiettivamente fa stracciare davvero il cuore io ve lo dico chiaramente mi sono sentita male ho anche pianto come una disperata mentre facevo le ricerche per fare questo video io penso anche a una madre che obbliga sua figlia a effettuare una sterilizzazione e mi vengono i brividi capisco che forse si è scelto di agire così perché Lisa aveva già dei figli di cui probabilmente non riusciva a prendersi cura ma diciamolo chiaramente è una barbarie vi dico solo che quando ho letto questa cosa mi sono sentita dentro la serie tv il racconto dell'ancella che è un distopico attenzione però non giustifico quello che ha fatto Lisa per quanto mi riguarda meritava di stare in carcere per tutta la vita via la chiave ma meritava un ergastolo io ora vi chiedo con tutti questi problemi mentali con questo passato ma Lisa davvero meritava di morire io non credo che poi ve la butto lì leggo molti commenti in cui sostenete sotto diversi video che l'ergastolo è troppo poco merita la pena capitale per quanto mi riguarda a livello di pena pensandoci è molto ma molto più duro l'ergastolo con l'ergastolo ti svegli ogni giorno della tua vita consapevole di ciò che hai fatto e devi farci conti con ciò che hai fatto e ci devi stare tutti i santi giorni in quel carcere inoltre ve lo dico tranquillamente io credo nella riabilitazione carceraria alcune persone non possono essere riabilitate perfetto ergastolo per me dovrebbe essere così la situazione ecco detto questo ragazzi questa era la storia di Lisa Montgomery io l'ho trovata straziante ma voi cosa ne pensate Lisa meritava di morire ma soprattutto sapevate quello che c'era dietro questo caso sono molto curiosa di saperlo anche perché ho letto diversi articoli in italiano davvero in cui c'erano scritte delle cose false fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti detto questo ragazzi spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi grazie a tutti